Attività terziaria in crescita sia in Gran Bretagna che in Irlanda. Questo è il quadro fornito da Market Economics che per il Regno Unito ha confermato che nel mese di dicembre l'indice PMI dei servizi si è attestato a 56,2 punti, il tasso di espansione più alto in 17 mesi. Buoni risultati nello stesso mese in Irlanda dove i livelli sono tornati quasi come al periodo precedente e il referendum che ha deciso l'uscita dall'UE. Quello che stiamo vedendo è un vero e proprio recupero dai giorni cubi della Brexit quando tutti erano tristi e depressi. Adesso c'è un'aspettativa più realistica in base alla quale tutti possono ottenere buoni risultati nel periodo successivo al referendum. A dicembre il terziario è andato bene anche in Irlanda, primo partner commerciale del Regno Unito e quindi maggiormente a rischio. L'indice che rileva l'andamento del settore manifatturiero è salito a 59,1 punti dai 56 di novembre. Si tratta di un tasso di crescita superiore alla media di dicembre di 54,4 punti all'interno dell'area euro. Grazie. Grazie. Grazie.